Ciao a tutti fratellini e sorelline, è dal più di un mese che non usciamo e quindi oggi farò vedere come trascorre il tempo. Per prima cosa aiuto i miei genitori a cucinare, infatti oggi abbiamo fatto la pizza di Pasqua. La mia seconda cosa è studio, ok però c'è per bastare, fare la ginnastica. Ok, oddio stavo per cadere, adesso vi faccio vedere dei quadri che ho fatto perché poi abbiamo le specialità di insegnatore. Però non è ancora finita qui, ci stanno anche altre cose che voglio fare in giardino. Venite con me, vi faccio vedere altre cose. Ci stanno tante cose che voglio fare in giardino, ma vi farò vedere un po'. La prima di queste è correre e saltare. E adesso vi faccio vedere come reagisco quando mia madre gli dice di fare i compiti. Cecilia, i compiti! E poi vi faccio vedere anche i miei cani. I garza e... Vabbè, questi sono i miei cani. Con loro oggi gioco tanto. Ciao a tutti, buona Pasqua e ci vediamo in Tana!